vabbè snappo buono dai siamo se lo vedo grazie a tutti quelli che scelgono i miei ovviamente perché devi fare il buco di culo spiegamelo perché dovevi fare il buco di culo ops ops I did them again I'm taking your heart and what's all is game oh baby baby 105 ai piedi si stai dormendo però eh zio frank ma che cazzo c'è figa raga ma che cazzo di gente c'è raga andiamo ma non sei forte ragazzi qualcuno può fare un piccolo monumento in merda a escere boys che ha trovato l'america ma non sei forte ma dannazione com'è possibile che tu che fai cagare fai questi numeri e io che sono fortissimo non mi caga nessuno mannaggia sai che è proprio una di quelle cose che mi dicono da anni è proprio un grande mistero sarà che mi compro gli iscritti secondo me sì andiamo mi fate morire ragazzi ovviamente grazie grazie per le emozioni che mi trasmettete ogni giorno vi amo vi amo vi amo andiamo attenzione allora c'è figa booo c'è io non lo so raga figa questo figa bot xyuda figa bot 700 spettatori figa porco dia zio figa bastarda spammo 90 tutto il giorno figa mi guardano in tre figa xyuda figa compri gli iscritti figa maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa andiamo figa palese che li compri il tizio dietro c'è booo figa sto qua bot figa giochi della season 1 non so neanche fare i 90 figa non so neanche fare chi schifo xyuda ingassi la merda e la vergogna xyuda mamma andiamo vi amo ragazzi vi amo vi amo grazie per regalarmi queste emozioni ogni giorno da anni c'è qualcuno che mi sta ancora veramente sfidando col cecchino andiamo cerco xyuda cerco xyuda tutto l'anno e su youtube lui non c'è più fa le live su twitch tutto il giorno vada via il culo io se becco quello che mi sta sparando credo di essere in mezzo delle persone ragazzi ma certo che lo fanno apposta vai ah vuole il ban vai hop pensaci tu banna tu hop una grande idea salire così veramente io ti vengo a prendere se mi fai salire oh aspetta che aspetta che il pro builder si tocca ancora un po' di più eh apro builder gioca andiamo vai affanculo impara a giocare mamma ragazzi che vergogna figa ma che vergogna raga andiamo vai vai carica qua un attimo vai 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 attenzione io facciamo gta raga 40 40 iscritti ragazzi e facciamo gta dai e a parte che senti un 800 quindi sbranchi di sbranchi di sbranchi anche in endgame ma che schifo la spada oh cazzo quello dietro però non l'ho mica visto via eh lo so lo so che sei un bastardo non è che non lo so cazzo è stata una grande minchiata oh eh dove gli è passato tu sai che c'è uno con la spada vero è morto vai 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 non torni indietro il drop il drop il drop il drop il drop mi dite vai 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 il drop il drop il drop il drop il drop carica 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 easy Cos'era sto peto? Ma tu hai capito che ci sta sparando? Domanda numero uno Dov'è il mio pompa leggendario? Dov'è il mio pompa? Dov'è il mio pompa leggendario? Cazzo cazzo! Cazzo cazzo! Cazzo cazzo! Cazzo cazzo! Cazzo cazzo!